Salve a tutti, il mio nome è Maria Moira Trombetta e oggi sono qui per raccontarvi che ho dato la mia disponibilità alla candidatura per la lista Il Forum dei Cittadini di Rovigo a sostegno del candidato sindaco Edoardo Gaffeo. Perché l'ho fatto? Ho deciso di mettere in campo il mio impegno e la mia esperienza perché la situazione della città di Rovigo e in generale del paese è minacciata da una destra ultraconservatrice ed è il momento di cambiare le cose. Spero che ci darete tutti quanti una mano e nei prossimi interventi vi spiegherò quali sono i punti cardine del programma che intendo sostenere. Quindi vi invito tutti il 26 di maggio a partecipare al voto e per il comune di Rovigo a esprimere la vostra preferenza in mio favore scrivendo trombetta Maria Moira sotto la lista del Forum dei Cittadini di Rovigo. Mentre per il Parlamento europeo ad assegnare il vostro voto al Movimento Più Europa. Sarà una bella battaglia ma con il vostro aiuto ce la faremo. Grazie!